Disturbo? Posso sistemarmi vicino a lei? Ma per chiarità si accomodi. Oh, grazie. Lei è molto gentile. Sa, di solito qui a Monte Carlo gli italiani sono un po'... Forastici. Esatto, per non dire altri. Eh, che vuole? Quando scatta l'estate, i facoltari sono tutti lì ai blocchi di apertenza. Lei vive qui a Monte Carlo? No, so di Roma. Ah, di Roma? Dall'accento non l'avrei detto. Beh, sono a Pochetto. Curio, l'acqua è una vigna. Una vigna? Lei è romana, molto romana.